Oggi finalmente si tira un sospiro di sollievo, le bimbe sono tornate a casa e stanno bene. Sì, sì, stanno bene. Meno male. È una festa, diciamo. Un giorno nuovo delle loro vite. Stanno bene e sono già tornate a casa le due studentesse investite ieri pomeriggio a Marciano delle Chiana all'uscita dalla scuola. Le due ragazzine, 12 anni, di origini marocchine, da anni residenti nel comune della Val di Chiana, erano state travolte sulle strisce pedonali da un'auto che ne aveva sbalzato una distanza di alcuni metri e trascinato l'altra sul cofano finché non è riuscita a fermarsi. Tra il tempo che sono arrivati i vigili e sono arrivati i soccorsi sanitari, ognuno di noi in qualche modo cercava quello che riusciva e si sentiva dentro di aiutare i coinvolti. Io ieri non l'ho sentito sola, sono sentita abbracciata da tutti, vicino a tutti. Alla guida dell'auto una Fiatta 600, una sessantenne del posto, che si era subito fermata per prestare soccorso. Le 12 anni erano state invece portate in codice rosso con l'elisoccorso della regione all'ospedale Meyer di Firenze. Hanno riportato varie fratture. Ed intanto in paese si è accesa la polemica sulla pericolosità della strada. La provinciale 25 che attraversa il paese prende il nome di via Cassiglioni. Come potete vedere le strisce pedonali sono infatti in una semicurva. E' assurdo avere delle strisce in obliquo a ridosso di una curva, di una salita e di un incrocio. Non c'è niente a vista. Devi stare così, così. Se sono i ragazzi che sono un po' svelti, questo è pericoloso. Le macchine viaggiano a tutta randa. Unanime dunque la richiesta di interventi alla provincia. Mi aiutino proprio con questo discorso delle provinciali perché io per ora ho già previsto questi sei velocity box per la velocità. Le persone debbano rispettare gli esseri umani e quindi non possono guidare come se fossero così su una pista.